allora visto che si continua visto che continua qualche truffaldino a parlare di inter e a sporcare il nome dell'inter addirittura vi stanno postando il numero del rank del canale cosa vuol dire numero del rank poi se venà oggi pomeriggio farà un video dove vi spiegherà in maniera dettagliata come segnalare alla polizia postale i truffaldini il truffaldino numero del rank io posso essere il due milionesimo canale su youtube i veri numeri di un canale youtube rapporto iscritti e visual si vede qui voi andate voi andate ad informazioni canale vedete community canali ed informazioni ok sotto c'è link del canale poi c'è il paese di provenienza sotto c'è la data di iscrizione del canale youtube questo il mio è stato aperto il 27 aprile 2022 quindi circa un anno fa ed il mio canale ha circa 3 milioni di visual questo è un dato certificato di youtube vi stanno passando il numero del rank vi vogliono far capire che hanno 3 milioni di visual 4 quelle che hanno sono canali fake ricordo che comprare iscritti è illegale ok invito le persone che vanno in live con certi personaggi a dissociarsi immediatamente perché verranno tutti segnalati alla polizia postale perché vi dovete dissociare da chi illegalmente compra iscritti e fa visual illegalmente con iscritti comprati c'è un programma dove si vede il canale youtube che compra iscritti che perde iscritti e quanti ne compra giornalmente quindi a chi va in live da certi personaggi consiglio vivamente di dissociarsi da quel personaggio di non andare in live perché noi abbiamo le prove sia scritte sia anche dopo proprio documentali inerenti ad un sito dove si vede un canale youtube che compra iscritti in maniera illegale e la verità di ogni canale youtube sta qui voi andate su il canale vostro preferito andate su informazioni canale ulteriori informazioni c'è il link del canale paese di provenienza data di iscrizione e le visual vere del canale sono qua due milioni e novecentosettantaseimila seicentoottantatré queste sono le visual del canale che sono erati qualche truffaldino su youtube ancora non ha imparato la lezione continuano a truffare a far vedere cose che non esistono i tifosi dell'iter ripeto per l'ultima volta chi va in live con questo personaggio è pregato di dissociarsi immediatamente altrimenti verrà denunciato alla polizia postale ciao inter